Il Padre Eterno Il Padre Eterno Il Padre Eterno Il Padre Eterno Beh beh, è lunghissimo Buonasera Buonasera Padre Posso chiamarlo Padre, sì Padre Eterno è meglio Buonasera Padre Eterno Quello è tosto Padre Eterno Molti si sono domandati Se il Padre Eterno perluisce il cane O l'aritmetica Non ho capito Eh, ne faccio Vabbè, è certo Visto che conosce tutti La parte di tutti lui, la gerini Il Padre Eterno sicuramente la conosce E come? Lei è Padre Eterno? No, il contrario Ah, Padre Eterno Si ricorda della... capito? La gerini la conosce, sì Noi abbiamo sempre molto Molto apprezzato la gerini qua su Ecco Dove? Ci dispiace soltanto che verrà molto tardi Non come lei, buon compagni Che prima o poi ci raggiungerà Hai capito? La gerini è giovane Ma perché... Questa è una bruttissima notizia Sì, ma farà un trattamento Un buon trattamento non ho capito bene l'ultima frase che ha detto prima no io non l'ho detta non è l'ultimo arrivato si come ha detto esattamente non è l'ultimo arrivato questo ha detto io che segna scusami 11 lettere ma non scriva ma che scrive la multa mi fa guarda da che ci siete come io facevo Claudia Procula ah ecco è vero nella passione di Cristo per questo padre Eterno Cristo è un suo dipendente lo sa chi è a me? si sia lei padre Eterno ho capito la domanda ma il figlio non è dipendente no Claudia faceva una parte nel film importantissimo che si intitolava la passione di Cristo dico lei sa chi è faceva mi è Claudia Procula mi è sfuggito devo prenderlo a blockbuster? no padre Eterno cosa dice ma cosa ha in mano lì? voi sapete formavano 31 orizzontale ma come? formavano la corte di Giove formavano la corte di Giove 31 orizzontale fa la settimana quanti lettere? 3 3 come? 3 zi zi di come? di zi ma con due i i zi formavano formavano la corte di Giove di ma ma è un'altra strana il cardinale lo sa sicuramente una verticale ah è una verticale di conferma io vorrei chiedere al padre Eterno ma che cosa sta dicendo? mi rendo conto che l'età nuoce anche al padre Eterno ma non ti devi confondere padre quindi da del tu al padre Eterno e me sembra a loro sono un po' io sono il cardinale lui è mio padre io è mio padre ci diamo del tu anche anche quando non siamo presenti con gli ospiti che ci circondano il cardinale Barabini no padre la correggo Mirabini Mirabini è un po' Barabara Mirabini 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 ma l'età cardinale allora e invece lotto verticale si fuggito di galera evaso come evaso buon compagni no è evaso non c'è quante lettere sono? cinque lettere quante lettere è buon compagni? eh tantissime 11 11 11 le sa una più del diavolo no? si facciamo via pronti con la gara guarda un po' Padre Eterno Padre Eterno chi è? che cazzo ne è? guarda come dondolo va bene va bene vediamo l'altra l'altra cardinale coraggio se il Padre Eterno si mettesse di allora questo era difficile eh Pippo Pippo non lo sa bravo non lo sa non lo sa non lo sa non lo sa dire tutta la città non lo sa non lo sa non lo sa va bene è il titolo è il titolo si è qui è esatto il titolo ve lo diamo? si no ma è così importante va bene va bene prossima mi raccomando Cardi guardiamo benissimo le canzoni moderne anche quelle moderne quelle non moderne lei si ricorda il motivo? quelle un po' volgarotte anche Eminenza lei ricorda il motivo ma non il titolo la canti un po' canti un po' ta 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 ra non me la ricordo ma voi mi mettete in imbarazzo non lo sa va bene forse lei padre la sa va bene Tintarella di Lugna Tintarella di Lugna Tintarella con la pelle Tintarella sopra i mette Tintarella sopra i gambe con i gambe e se c'è la luna piega diventi malida la non porto il punto il punto è l'ultima l'ultima 3 a 0 vediamo l'ultima vediamo l'ultima però